In particolare il Cavaliere 102 è stato ricostruito come ritrovato nella fossa, quindi c'è lui con tutte le sue bardature e con le bardature del cavallo e quella è probabilmente la tomba del capo di Morrione. Cioè il seppellimento col cavallo non è una tradizione molisana, locale, non è una tradizione sanita, non è una tradizione romana e non è neanche una tradizione germanica. Sono quelli della seconda, terza, quarta generazione di Alzeco. Perché essendo il dottor D'Amico uno studioso, tra le altre cose anche uno storico, si è interessato molto delle origini del nostro paese e nei suoi studi lui riteneva che le origini di questo paese venissero dai Bulgari. Avere delle assonanze anche con i costumi, con le consuetudini bulgare, quindi un'influenza da documentare e da ricercare ancora, perché per come certe vie della cultura poi si intrecciano, però sicuramente è un elemento molto affascinante. Avere delle assonanze anche con i costumi, con i costumi, con i costumi, con i costumi, con i costumi. Grazie a tutti.